E' un bel canale. l'abbiamo fatto vedere le unghie si le unghie guardate no no Gianluca deve fare quell'annuncio fantasioso ce l'abbiamo fatto prima torniamo indietro nel tempo per dire questa cosa Gianluca il tuo piede no mi piace un salto e direi che bello questo cane che si sta leccando tutta la fracola mi è piaciuto questo cosa la fracola questo qua non me papà o sorella papà o riflessione dai scusa dai lo pensiamo ora ok considerando l'intelligenza di alcune persone capisci a me eh che scrivono a quelle persone io lo vedo ma vado a puzzare noi dopo dobbiamo fare l'annuncio si basta sei idiota bravo mamma ora sono una bimba grande bravo bravo ma che hai fatto la guerra tutto bene ho fatto un video postissimo salutiamo la mamma di Gianluca ciao 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 fammi di rispondere fammi di che stiamo facendo un video tranquilla tranquilla e france non mi dire niente stiamo facendo in un attimo il video va bene poi mi stacca perchè mi stacca io voglio fare la tua amicizia la tua però vuole fare l'amicizia di francesca non lo dire ecco no partono le grandi denunce perciò per favore non chiamare stiamo registrando ciao ciao io vi mando pure un messaggio vocale o meglio già i miei amici cosa già i miei amici non mi vogliono non è giusto ehm francesca un attimo registrando il video va bene ci piace sorella ci piace ci piace sorella parzialmente soleggiato 21 gradi parzialmente soleggiato piove ma assai proprio sole che rompe le pietre rompe le pietre spaccava però va bene anche rompe allora ragazza che stai chiamando su facebook ti saluto raga le ragazze che si chiamano su facebook non ci chiamano su facebook beh salutiamo non sto fattiando ciao francesca saluta già lui ehi ciao francesca smettile 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 di chiamare smettile smettile oh ciao da studo non chiamano più ciao francesca ma sempre con amore e rispetto ecco per la natura dai mammi feriti e per la natura tutto no devi metterla guarda io ce lo so guarda ecco segui già qua dentro no da quest'altro lato ma guarda lì l'intelligenza da youtube provi sai l'intelligenza non c'è brah va trivi non fare le palline eh 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 è pezzotto no è davvero molto pezzotto questo no non gira non gira no un pezzo così piccolo si ma io no non la mette nel video si si non la mette nel video vai serena rica tu che stai montando questo video e che adesso sei al computer a vedere il file video non mettere questa parte tanto la metto no questa è tipo allora questa è tipo la ventiduesima capata che do testata che do a letto ok esattamente e come è più buona la carta Gianluca dammine un poco no lo sento no ma scorza il romlone cioè scorza del melone no è la stessa cosa di prima ahahah molto sincerato ahahah devo sfruttare il gelucca per provare ahahah ma mica lui la doveva fare ma mi pareva fare un poco ma bene così ahahah su quanto fu golf chi? golf fu golf fu golf è una parola balcanica ah o golf vuol dire brezza marina brezza c'è su stano quattro casi è la classica cosa degli snack eh si no si ciao amici e ciao amici ciao amici ciao amici come state ciao amici ciao amici ciao ragazzi mi ha baciato veramente adesso mi sforzo a fare il pollice così con la proprietà ma che cazzo ehi ehi francesi ne siamo con noi adesso con noi fanno la pittina lui è la morte lui è la morte che come io che muoio ahahah la morte in kombuta se volete sapere che cosa la morte in kombuta se volete sapere che cosa la morte che in kombuta vi dico davvero per ripassare al suo canale ahahah io c'ho il pollice storto guarda che si fa impressione guarda il mio è anomalo ahahah ahahah si certo si è proprio tu è proprio tu è proprio tu è perchè io in realtà sono un pesce ahahah è un pesce è un pesce è un pesce è un pesciolone ahahah